buongiorno a tutti ragazzi ben trovati in questo nuovo video siamo qui all'alpe del vicerei siamo sopra alba villa sta nevicando e oggi mi cimento in un allenamento di corsa in salita farò un bel pezzo fino ad arrivare alla capanna mara sono circa due chilometri due chilometri qualcosina di salita le condizioni meteo sono pessime nevica spero che non sia troppo bagnato il percorso e adesso partiamo un po' di salita ho la neve che mi entra negli occhi mentre corro ci entriamo a prendere qualcosa di caldo e mi riscaldo anche un po e quindi allenamento fatto, scorpacciata fatta, posso tornare giù io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao